Intimità L'intimità è anche legata alle tre colonne della vita Parenti, romanticismo e compagni di stanza Caffè? Ci sono delle cose dalle quali non si sfugge E altre che semplicemente non si vogliono sapere Hello Kitty Vorrei che ci fosse un breviario sull'intimità Una specie di guida che ti spieghi quando si supera il limite Sarebbe bello poterlo prevedere Lasciala andare Ma non saprei come farlo rientrare in uno schema Dobbiamo lasciarla andare Ovviamente sappi che ogni volta che avrà un'erezione Lui penserà a te Spingi fin dove puoi arrivare E resisti finché puoi E in merito alle regole Farete meglio a non usare il mio spazzolino Non lo faccio Forse non ce ne sono Forse le regole per l'intimità Sono qualcosa che bisogna definire da sé Per il riso Per il riso Per il riso Grazie a tutti.